Smart Future Academy torna dal vivo e ripercorre i passi delle proprie origini a Brescia, sempre con lo stesso spirito aiutare i ragazzi a intraprendere la strada del futuro e a specializzarsi. L'occasione è Futura Expo, l'esposizione della Camera di Commercio in programma al Brixia Forum dal 2 al 4 ottobre. Nella prima giornata l'Academy sarà presente alla fiera con un proprio spazio, ma nei due giorni successivi che al Pala Leonessa verrà riempito da migliaia di studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori provenienti da tutta Italia. Si tratterà del primo evento live nazionale interamente dedicato alla sostenibilità, con l'obiettivo di promuovere l'orientamento verso le professioni e percorsi di studio sostenibili alla luce dell'Agenda ONU 2030. Sarà solo la mattina per i ragazzi, saranno divisi in quattro gruppi, due il giorno 3 e due il giorno 4, metà mattinata la passeranno ad ascoltare speech e l'altra metà in fiera. Gli speaker che si confronteranno con i ragazzi saranno veri e propri mentor che porteranno sul palco la loro storia, fatta di successi ma anche di cadute. L'obiettivo è quello di contrastare la sensazione di inadeguatezza vissuta da molti giovani, dimostrando che è possibile realizzare i propri sogni con la giusta dose di formazione. Per Roberto Saccone una necessità, quella di formare e specializzare i ragazzi, in un momento storico di forte domanda. Per questo motivo la Camera di Commercio ha fortemente voluto la partnership. In fondo è un porte aperte dell'economia bresciana perché i giovani avranno la possibilità di toccare con mano i tanti progetti che le imprese e le istituzioni stanno mettendo in campo per rendere il nostro territorio più vivibile. Grazie. Grazie.